chi dite? dove? guarda le fiume che regala se vedi, guarda ma, dito dio! porco la fiume! questa è ammazzata a gente ragazzi no, questa è ammazzata a gente questa è ammazzata a gente questa è ammazzata a gente porca broia guarda il vettore guarda il vettore oh porca puttana è ammazzata a gente questa porca puttana il vettore abbassa di Leo guarda la casa io abbassa di Leo scaricate i fucili scaricate i fucili